musica parole prive di un nome clone che uccide le icone televisive ci espone le prospettive che ci attendono l'informazione divide da ogni fazione convive con la finzione e nuove guide che si estendono ognuno ha la sua visione e la sua ragione una lezione da impartire ed avvertire la comunità è come una missione se oggi qualunque il coglione si propone come paladino della verità che cosa è vero davvero cosa è bianco e cosa è nero il messaggero di un pensiero va preso sul serio no se tutto quanto è vangelo tutto vale zero con zelo propinano il loro siero e ti possiedono a chi da restiretta c'è chi scrive c'è chi detta chi legge giornali di fretta e lo getta va così c'è chi sospetta una setta c'è chi si aspetta una fetta accetta questa verità imperfetta perchè è tutto qui clicca download in mezzo a questo smog manda giù nuove news come fossero doc login, logout, di blog in blog panico, sovraccarico, overload clicca download in mezzo a questo smog manda giù nuove news come fossero doc login, logout, di blog in blog panico, sovraccarico, overload la tele resta spenta e non la guardo più come ne fa nel 96 qui è tutto un déjà vu le storie si ripetono, le cambiano, rimangono le stesse ma competono, tra loro e poi infrangono il muro dell'intelligenza umana cada ciò che accada nella vita urbana è tutto da copione chieda truma nella settimana vada come vada una fiumana di notizie di sicuro poi ti consuma il web non aiuta certe volte peggiora le situazioni perchè ogni forum qui maggiora le macchinazioni complotti gli trighi ora le relazioni di vip e no vip come bora di informazioni ma cosa è realmente reale? come la gente normale potrà distinguere quel che è veramente triviale? guarda il telegiornale come è inusuale non si può estinguere proprio come un ideale clicca download in mezzo a questo smog manda giù nuove news come fossero doc login, log out, deep log in blog panico, sovraccarico, overload clicca download in mezzo a questo smog manda giù nuove news come fossero doc login, log out, deep log in blog panico, sovraccarico, overload c'è chi vede cospirazioni in tutte le direzioni dagli illuminati ai massoni e robe del genere sino all'11 settembre è solo leggende che si pretende di spacciare per segreti che fan fremere l'utente è diffidente verso i canali ufficiali quotidiani e telegiornali, soltanto falsità in realtà invece siamo tutti alla pari pure se bari non è alcuna responsabilità brucio il giornale se mi capita tra le mani tutto fatto per vendere da grandi scrivani vogliono che compri i loro prodotti a questo ci siamo ridotti, indotti, sedotti e fino al midollo corrotti il bello che ci lamentiamo ma seguirli siamo i primi in prima fila se possiamo e loro ci deridono sanno che lo facciamo anche zitti tipo mimi perché con i loro metodi dopo ci convincono clicca download in mezzo a questo smog manda giù nuove news come fossero doc login, log out, deep log in blog panico, sovraccarico, overload clicca download in mezzo a questo smog manda giù nuove news come fossero doc login, log out, deep log in blog panico, sovraccarico, overload